Ciao amici, benvenuti o bentornati sul canale. In questo video vi farò vedere ben 16 colori novità della linea Prestige di Karma Nail. I gel color Karma Nail sono tra i miei preferiti sul mercato perché sono molto pigmentati, coprenti e facilissimi da stendere. Questo vale per tutti i colori, ma soprattutto i nude, la cui stesura è facilissima ed impeccabile. Un altro punto a favore dei gel color Karma Nail è il loro rapporto qualità-prezzo. Infatti sono molto economici e proprio adesso potrete trovarli in sconto fino al 40%. Nell'infobox vi ho anche lasciato uno sconto del 10% che è accumulabile con le offerte in corso. Prima di vedere la stesura dei colori io vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere i video che escono tutte le domeniche e giovedì alle 15 e seguirmi sul mio profilo Instagram ed iscrivervi al gruppo Facebook Il Salotto di Nail Couture per rimanere sempre aggiornate con le novità. Cominciamo a vedere il numero 219 Abigail e come vedete è un bellissimo colore prugna metallizzato con dei micro glitter blu al suo interno. Ciao! 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 Farmistica Assurata Passiamo al P220 Amelia che è un bellissimo colore metallizzato tra il rosa e il marrone. Molto caldo e va sicuramente bene con le carnagioni in sottotono giallo. Passiamo adesso al P221, Evelyn, che è un nude tonalità né rosata né pescata, abbastanza neutra e di un colore medio. Secondo me questo colore sta bene su tutte le carnagioni. Il colore P222, Mila, è un colore rosa acceso. Per chi non vuole rinunciare ai colori vivaci anche in autunno. Il colore P223, Ella, è un nude rosato, di un colore molto più rosato rispetto al P211, Evelyn. Ma non vi preoccupate perché alla fine vi farò vedere tutti i confronti tra tutti i nude che vedrete in questo video. Il gel color P224, Camilla, è un nude tendente al rosa e al rosso, metallizzato e molto particolare e devo dire che non ho niente di simile nella mia collezione. Adesso vado con la seconda passata. Il colore P225, Vittoria, è un bellissimo prugna magenta metallizzato. Il colore P225, Vittoria, è un bellissimo prugna magenta metallizzato. Il colore P226, Luna, è un colore rosa bubblegum glitterato. Il colore P227, Chloe, è un raffinatissimo nude tra lilla, il grigio e il top. Il colore P228. Il colore P228. Il colore P228. è un bellissimo lilla e rispetto al precedente p227 è più chiaro e ha una componente più rosa al suo interno il colore p229 nora è un bellissimo nude cremo il colore p230 Anna è un colore nude medio rosato metallizzato il colore p231 Genesi è un colore crema metallizzato tono su tono con il colore p229 nora che invece è il colore opaco il colore p232 è un magenta scuro con all'interno dei micro micro glitter blu il colore p233 Aria è un bellissimo magenta metallizzato per chi sente la malinconia dell'estate il glitter GL44 Puerto Rico è un bellissimo turchese con dei micro glitter olografici e anche per questa volta il video è terminato io spero che vi possa essere stato utile e di avervi tenuto compagnia e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao il colore p233 Ella è un bellissimo ahhh Ciao